Io sono Flavia Marinelli, penso che alcuni di voi mi conoscano in quanto sono presidente del corso di laurea triennale in biotecnologie e di quello magistrale in biotecnologie molecolari industriali. Dunque, vi presento il nostro corso partendo da un motto, che è il sapere, saper fare e saper essere. Sapere perché chiaramente dobbiamo insegnarvi alcune materie, vedremo quali sono. E voi le dovete imparare, quindi dovete studiare. Questo è un primo accordo che va fatto con gli studenti. Saper fare perché ancora di più rispetto alla laurea triennale in biotecnologie, i nostri corsi per la laurea magistrale prevedono molte attività di laboratorio e uno stage di almeno nove mesi nei laboratori. Quindi quando uscite dal corso di laurea magistrale in biotecnologie molecolari industriali sapete fare e saper essere perché nel corso di questo secondo step della vostra carriera dovete anche imparare a vivere in un gruppo, in un laboratorio di ricerca, interdisciplinare possibilmente, cioè sviluppare un linguaggio di comunicazione anche con altre aree, vedremo che nel corso di studio sono presenti elementi di economia e di ingegneria proprio per questo motivo e anche un gruppo di studio, cioè un gruppo internazionale, quindi il saper essere è essere all'interno di una realtà, che è la realtà che potete sperimentare sia durante i corsi, durante gli insegnamenti, ma soprattutto durante il periodo di stage che appunto occupa quasi tutto il secondo anno. La durata è biennale come tutti i corsi di studio, 120 CFU, classe di laurea nelle biotecnologie LM8. Perché le biotecnologie? Le biotecnologie sono la parte più applicativa, diciamo, della biologia e oggi possiamo, siamo in un'era in cui abbiamo una marea di informazioni che possiamo utilizzare, pensate per esempio a tutta la genomica, realmente per far fronte con le biotecnologie a delle sfide, a delle sfide a cui ci troviamo tutti come, diciamo, viventi su questo pianeta di fronte. Quindi possiamo con le biotecnologie migliorare la salute umana, produrre farmaci innovativi, vedremo che le cosiddette biotecnologie rosse sono tra quelle ancora più importanti nel settore. Possiamo però anche avere un impatto positivo sull'ambiente, sull'agricoltura, sulla salute animale, sviluppare nuovi processi industriali che siano ecocompatibili e anche sviluppare nuove forme di energia. E, diciamo, ci sono quindi le due aree emergenti delle biotecnologie, oltre quelle rosse che sono quelle più consolidate di tipo farmaceutico, sono appunto le bianche che vogliono dire sostituire processi chimici impattanti con processi amici dell'ambiente, quindi basati sull'utilizzo di microrganismi o loro componenti, e le biotecnologie invece verdi che sono quelle legate all'agricoltura e anche quindi al rifornimento di cibo. Quindi ci sono veramente tanti argomenti che possiamo trattare oggi con l'approccio biotecnologico. L'altro aspetto più pragmatico che pone il corso di studio all'Insubria in una situazione privilegiata è che noi siamo nel distretto biotech italiano, cioè la Lombardia è la regione in cui abbiamo maggior numero di aziende biotecnologiche in Italia, è maggior fatturato, è maggior offerta di posti di lavoro e poi diciamo come nostra collocazione siamo vicini al Canton Ticino col cluster biomedicale del Canton Ticino che quindi offre molte possibilità che sfruttiamo già durante il corso di studio attraverso le collaborazioni con le aziende, con i centri di ricerca svizzeri con cui gli studenti iniziano a fare, molti studenti iniziano a fare dei percorsi di stage. Vedete che abbiamo una serie di rapporti che seguiamo annualmente di cui tra l'altro c'è una piccola brochura anche all'ingresso, prodotti da varie aziende, da organi di consulenza o parti sociali che analizzano proprio l'evoluzione delle biotecnologie in termini sia di contenuti che di posti di lavoro e alcuni di questi organi sono rappresentati nel comitato di indirizzo del corso di laurea che è il comitato che indica proprio le scelte che il corso di laurea deve fare nella formazione per rispondere alle necessità del territorio. Ogni anno abbiamo anche questo evento, partecipiamo alla European Biotech Week in cui parliamo appunto delle attività, questo per esempio viene da una delle ultime partecipazioni all'European Biotech Week in cui vediamo proprio i dati ed esempio qui vedete che appunto la Lombardia è una delle regioni con anzi è la regione con il maggior numero di imprese biotecnologiche in Italia. Allora quindi la figura del biotecnologo è una figura nuova che viene anche messa sotto osservazione da diciamo realtà diverse da quelle proprio scientifiche, per esempio questo è un articolo del sole 24 ore in cui analizza quindi la nuova possibilità, le nuove possibilità che ci sono tra i profili dei laureati in biotecnologia e è un articolo che dice che appunto conclude dicendo che il futuro biotech perché una laurea in biotecnologia spiana la strada a tutte le opportunità professionali generati dalle scienze della vita nei rami della salute, ambiente e industria. Quindi non ve lo dico solo io come presidente di corso di laurea che ovviamente sono di parte ma lo dicono anche diciamo chi fa studi di settore più o meno collegati con la realtà biotecnologica e questo articolo lo potete scaricare anche dal sito del corso di laurea. Tutto ciò comporta il fatto che è un po' il fiore all'occhiello del nostro corso di laurea che noi abbiamo un tasso di occupazione del 100% a un anno dalla laurea con un primo impiego che si trova in media in 4.6 mesi dalla laurea. Quindi noi siamo molto orgogliosi di questo dato che è un dato importante che diciamo è un dato che è una percentuale maggiore di quello che gli altri corsi di biotecnologia sul territorio italiano offrono ed è una percentuale maggiore anche rispetto a corsi anche erogati in Atenei di questo territorio che sono normalmente considerati corsi che hanno una buona occupazione tipo economia e ingegneria. Quindi siamo diciamo veramente al massimo delle possibilità occupazionali che possiamo offrire in questo momento. questo anche perché i nostri laureati sono ben preparati quindi ritorniamo al motto originale qui c'è la conoscenza nelle diverse aree, c'è la padronanza soprattutto degli aspetti molecolari e cellulari perché questi sono gli aspetti più importanti e più avanzati del settore biotecnologico c'è come vi dicevo una pratica etica di lavorare in laboratori e in aziende biotecnologiche una capacità di lavorare in un gruppo multidisciplinare ed internazionale. Quindi queste sono le basi per quanto riguarda la nostra approccio. Qui adesso non entro nel merito dei corsi che offriamo ma con il codice di colore potete vedere alcune caratteristiche del corso di studio. Ad esempio quelli che sono asteriscati comprendono attività di laboratorio e uno dei punti di forza del corso di laurea è proprio quello di offrire tante attività di laboratorio. Per quanto riguarda l'inglese abbiamo che alcuni corsi che sono normalmente nel secondo anno del corso di laurea sono erogati in inglese mentre altri corsi erogano lezioni in inglese. Il nostro approccio all'inglese è diciamo progressivo nel senso che cerchiamo di darvi gli strumenti per poter affrontare per esempio un corso di inglese ma ve li diamo progressivamente. Quindi il primo anno è erogato in italiano, nel frattempo adesso come vedrete potete fare una serie di attività che l'università vi offre per migliorare il vostro livello di inglese e nel secondo anno invece il secondo anno è erogato in inglese. Questo anche perché abbiamo il double degree, quindi gli studenti possono scambiare il secondo anno e noi abbiamo degli studenti stranieri che arrivano nel secondo anno. Per quanto riguarda appunto il corso in inglese del secondo anno, il secondo anno considerate che abbiamo nove mesi di stage presso un laboratorio, quindi i corsi sono relativamente pochi il secondo anno, sono concentrati nel primo semestre, nel secondo semestre siete impegnati nella attività di stage, quindi siete diciamo nei laboratori, questa è un po' l'organizzazione del corso di studio. Poi per maggiori dettagli sugli argomenti potete consultare il sito di Ateneo oppure noi siamo qui anche dopo, quindi potete chiedermi qualsiasi tipo di informazione. Come vi ho detto i nove mesi di stage sono molto importanti, possono essere fatti all'interno del nostro Dipartimento e in questo caso appunto siamo convinti che si fa buona didattica dove si fa buona ricerca, abbiamo dei laboratori che hanno una buona attività di ricerca con molti finanziamenti nazionali e internazionali, però potete anche andare fuori a fare lo stage, perché abbiamo tantissime convenzioni con aziende biotecnologiche italiane ed estere e con vari istituti Ateneo, italiani ed esteri, dove potete andare con le borse di studio che vengono erogate dal Consorzio Interuniversitario di Biotecnologie e grazie al programma di internazionalizzazione dell'Ateneo che vediamo in un momento. Ecco, quindi iniziamo un attimo a parlare del programma di internazionalizzazione, qui abbiamo il double degree con l'Università di Praga, questo è il campus di Praga, cosa significa il double degree? Significa che alcuni studenti meritevoli, cioè devono fare un bando durante il primo anno di BMI e vincere questo bando e questo bando, diciamo, tiene conto dei criteri Erasmus, quindi è il numero di CFU che avete maturato fino a quel momento e la media e gli studenti più meritevoli possono, che sono interessati, possono andare appunto a Praga a svolgere il secondo anno, completamente il secondo anno, quindi sia una parte di didattica che la parte di ricerca nel senso dello stage. Praga offre, diciamo, tante strutture, in una delle testimonianze che vedremo dopo, una nostra studentessa è stata a Praga da poco e vi racconterà di più sulla esperienza di Praga, lavoriamo molto con questa università sia come didattica che come ricerca e quindi questa è una possibilità. In realtà per voi non sarà nuova perché è già in atto quest'anno, cioè abbiamo già gli studenti che partono per il double degree, quindi voi sarete, diciamo, entrerete nel secondo ciclo di scambio. Perché, ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che alla fine di questo secondo anno prendete il diploma di laurea magistrale perché si chiama double degree, perché prendete il diploma di laurea magistrale e prendete anche Master of Science in Biotechnology or Pharmaceuticals che è quello che vi conferisce Praga, quindi l'idea è di avere il doppio titolo. Perché abbiamo deciso di iniziare questa attività di double degree nella parte farmaceutica, perché il farmaco è sempre più biotech. Questo è un altro articolo che potete scaricare. Noi abbiamo una serie di eccellenze in Italia per lo sviluppo dei farmaci biotech, come dimostrano anche i rapporti, tipo i rapporti di Farmindustria o di Assobiotech, e quindi diciamo che puntiamo a formare, in particolare con questo programma di internazionalizzazione, degli studenti che siano specializzati nelle biotecnologie cosiddette farmaceutiche. L'internazionalizzazione non è, diciamo, il double degree è una delle possibilità, è una possibilità molto prestigiosa, ma non è l'unica, perché possiamo garantire programmi di internazionalizzazione grazie a programmi Erasmus Studio e Erasmus Trainership, e questi quindi vedete che ci sono tutta una serie di paesi dove potete andare a fare l'Erasmus, con i quali abbiamo collaborazioni. Su come funziona Erasmus Studio e Erasmus Trainership possiamo darvi spiegazioni dopo, ma comunque sempre una delle testimonianze vi dirà un pochino di più, perché è appena tornata dall'Erasmus Trainership, quindi ne parleremo dopo. E poi, diciamo appunto, quello che penso avete capito, la forza del nostro corso di studio è l'accompagnamento al mondo del lavoro. Abbiamo una serie di convenzioni, di cui vi dicevo prima, con varie aziende, sia sul territorio lombardo che quello svizzero, e chi vuole proseguire nel dottorato può fare anche un dottorato avarese o un dottorato all'estero. Una delle testimonianze è una biotecnica studentessa che sta facendo il dottorato, quindi che vi può dare un'idea di questo aspetto. I punti di forza per concludere, è l'elevato rapporto docenti-studenti, molti laboratori di ricerca, stage, ne abbiamo già parlato, possibilità di fare viaggi studio che sono previsti in tutti i corsi, in molti dei corsi di laurea, tutor in inglese, una piattaforma linguistica estiva che vi permette appunto di migliorare l'inglese, che potete fare anche dalla fine della laurea triennale all'inizio della laurea magistrale, borse di studio addizionali di merito, e alcuni incontri con esperti per preparare i colloqui, di presentarsi a un colloquio e la stesura di un CV. Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, se siete laureati, qui vado veloce perché vi ha già spiegato Elena come funziona, però se siete laureati in una laurea triennale in biologia o in biotecnologia, non avete bisogno di guardare i requisiti di ammissione. Quindi i requisiti di ammissione li deve, quel discorso dell'obbligo, non dell'obbligo formativo, degli SSD da recuperare, del settore scientifico recuperare che vi ha fatto Elena, non è valido nel senso che se siete laureati, lo ripeto, questo vale anche per il corso di laurea Biomedical Science, in biologia o in biotecnologia, voi siete automaticamente ammessi, diciamo, al corso di laurea magistrale. Ciò non toglie che dovete fare comunque un colloquio informativo e conoscitivo che in questo caso sarà a settembre-ottobre 2018 e che avete tutte queste serie di scadenze se vi prescrivete, quando siete ancora, diciamo, laureandi, potete comunque confermare l'iscrizione entro febbraio, sono cose che sono già state dette, quindi valgono le regole che abbiamo visto precedentemente. In più noi abbiamo questo progetto Tutoring 1 a 1 che se vi laureate a marzo e quindi per non farvi riposare troppo durante l'estate, perdere, diciamo, l'anno perché perdete mezzo anno, potete seguire questo progetto Tutoring che vi permette di seguire i corsi singoli e di fare già delle esperienze di laboratorio che poi vengono recuperate, quindi è come se vi portate avanti quando vi iscrivete l'anno dopo al corso di laurea magistrale. Comunque, per tutte le informazioni potete chiedere a me o alla segreteria didattica e appunto sentire anche quello che hanno da dirvi gli studenti, gli ex studenti che parleranno nelle testimonianze. Ci sono domande? Chiedo a chi farà le domande di venire possibilmente a farle al microfono, almeno vengono, diciamo, ah, ok, c'è anche, oh, perfetto. Ok, volevo chiederle se serve una certificazione linguistica per l'accesso al bando sia del Double Degree che dell'Erasmus e se l'Insubria organizza qualcosa appunto per permetterci di raggiungere il livello linguistico che è necessario. Sì, allora, per il Double Degree serve una certificazione o attestazione di livello B2 che è quello che è chiesto anche per l'Erasmus Studio, l'Erasmus Trainership e questo livello B2 voi considerate che quando fate la laurea triennale in Biologia o in Biotecnologia arrivate a un livello B1, quindi per arrivare al livello B2 che è la certificazione o attestazione richiesta dovete, diciamo, avere questo tipo di percorso. Allora, o potete utilizzare delle certificazioni che vengono riconosciute che sono le certificazioni standard oppure nel caso del nostro corso di studio vi diamo proprio quella possibilità di utilizzare una piattaforma linguistica offerta dall'Ateneo con un tutoraggio, l'hanno fatta anche i ragazzi quest'estate in cui lo potete fare anche nel periodo estivo quindi tra la laurea triennale e la laurea magistrale perché il bando sia per il double degree che per l'Erasmus è alla fine del primo semestre diciamo del primo anno quindi vi dovete portare un po' avanti magari anche nel periodo estivo questa piattaforma linguistica viene seguita da un tutor che poi è il professore di inglese scientifico della magistrale e che vi porta al livello B2. L'attestazione che vi può essere data dall'università si chiama attestazione perché non è una certificazione ma l'attestazione da parte dell'Ateneo è sufficiente sia per andare in double degree che per andare in Erasmus. È chiaro questo? Ho risposto qualche altra domanda? Volevo chiedere nel caso uno studente scegliesse di scegliere appunto il progetto Erasmus come funziona il piano di studi cioè per avere diciamo un percorso il più linee possibile tra quello che uno studente studia qua un anno e quello che invece studia appunto nell'università a essere straniera. Ok. Allora ci sono due forme di Erasmus come avete visto uno è l'Erasmus studio e l'altro l'Erasmus train ship. In tutti e due i casi lo studente prima di andare in Erasmus deve fare un cosiddetto learning agreement che deve essere approvato sia dalla istituzione che manda quindi in caso dell'insubria sia dall'istituzione che riceve quindi dove eventualmente lei andrà a fare l'Erasmus. Per quanto riguarda l'Erasmus studio ci deve essere la congruenza dei corsi degli insegnamenti quindi è per questo che l'Erasmus studio in qualche maniera è più definito diciamo dell'Erasmus train ship perché è definito da accordi tra atenei quindi gli atenei che possono ospitarvi sono quelli che vengono riportati nella pagina diciamo del nostro sito Erasmus dall'ufficio relazioni internazionali perché dovete avere la congruenza quindi prima di partire la cosa molto importante è che uno esamini i corsi offerti e prepari questo learning agreement abbiamo per il corso di studio un referente che è la professoressa Marcella Bracale che vi aiuta nel preparare il learning agreement perché è veramente molto importante che partiate con un learning agreement chiaro in cui ci sono esattamente le corrispondenze poi diciamo ogni anno prima del bando Erasmus il bando Erasmus quest'anno mi sembra che chiudeva il 7 marzo quindi alla fine come dicevo prima del primo semestre quindi ogni anno l'ufficio relazioni internazionali fa una riunione per gli studenti spiegandogli bene come devono preparare la domanda di Erasmus in cui dicono sostanzialmente queste cose questo per quanto riguarda l'Erasmus Studio per quanto riguarda l'Erasmus Tranship anzi la ringrazio perché così mi dà l'opportunità di spiegare meglio questo punto che è una modalità che gli studenti di BMI di Biotecnologia scelgono moltissimo in magistrale perché il fatto che noi abbiamo nove mesi almeno nove mesi di stage permette agli studenti di andare a fare una bella esperienza all'estero in Erasmus Tranship in questo caso non siamo vincolati dai corsi perché lo studente non va a seguire degli insegnamenti va a fare un'esperienza in un laboratorio di ricerca e quindi in questo caso è molto più ampia la scelta nel senso che uno veramente può andare in qualsiasi Ateneo previo un accordo e una verifica da parte del corso di laurea quindi noi in questo momento abbiamo studenti è una formula molto richiesta dagli studenti di BMI abbiamo studenti che sono in Irlanda anche se l'Irlanda all'Università di Corno non è convenzionata con noi non so se è chiaro questa differenza basta che ci mettiamo d'accordo il corso di studio con il gruppo che prende lo studente e che venga garantito un lavoro adeguato c'è un bando per il traineeship che è diverso dal bando dell'Erasmus Studios che viene fatto più avanti cioè viene fatto verso maggio-giugno e quindi gli studenti del primo anno di BMI che vogliono andare a fare la tesi il periodo di stagio all'estero nel secondo anno devono fare questo bando a giugno e quindi a giugno a giugno a giugno a giugno a giugno a giugno a giugno